Credere nella gravità è credere alle favore, e credere è nemico di conoscere. Benvenuti e benvenute le nuove e i nuovi su Canal 104 Plus, bentornate e bentornati a tutti gli altri. Ricordo il secondo canale YouTube, il prezioso indice alfabetico, il libro Il Risveglio e Canal 104 Plus Telegram e per chi ama sostenere con l'energia monetaria del valore di un semplice caffè, può farlo cliccando su questa icona. Attraverso l'indice alfabetico avete il mezzo di approdare a molteplici voci sulla gravità. Se siete curiosi, curiose, aprite i video e imparate cose nuove. Potete accedere al video completo della prima parte di quanto segue cercando la voce Vuoto nello spazio e l'Apollo 11. La NASA ci dice che la pressione atmosferica sulla superficie della Luna è 10 alla meno 11 Thor e questo equivale a quasi 2 miliardi di PS negativi perché non c'è alcuna contropressione. Non ci sono i 14 PSI. Se fate la conversione, 10 alla meno 11 Thor equivale ad una pressione negativa di 131 milioni di atmosfere. Mi sono messo in contatto con un'azienda specializzata nel sollevamento che usa il vuoto dopo aver visto uno dei loro video promozionali. Il rappresentante che mi ha risposto ha dichiarato che è possibile riuscire a sollevare 25 tonnellate creando un vuoto all'incirca dell'80%, 165 Thor, tra il tampone di sollevamento e la grossa tubazione. Questo è un esempio. La pressione negativa sfrutta l'aria che al di fuori della tubazione, specialmente al di sotto di essa, spinge o tira così forte nel tentativo di entrare nel piccolo spazio tra sollevatore e tubo che può sollevare un peso di 25 tonnellate. Quello che segue è una registrazione del professor Walter Hendrick Gustav Lewey, un astrofisico e docente olandese naturalizzato statunitense. Questo è un enorme parallelo fra i due. È bellissimo perché l'elettricità agisce in modo parallelo al modo in cui funziona la gravità. Se confrontiamo l'elettricità con la gravità possiamo vedere che la forza elettrica è molto più potente della forza gravitazionale. Ed è facile mostrare che questo rapporto è circa 10 alla 36esima. Quindi la forza elettrica è 36 ordini di grandezza più potente della forza gravitazionale. E l'accelerazione che sperimenta il protone è la forza elettrica diviso la massa del protone uguale a MA con base 8 a 1. E se prendiamo questa forza elettrica, quando prendiamo D con 10 alla meno 12 centimetri che poi è 10 alla meno 14 metri, calcolando questo rapporto troviamo che è 26 ordini di grandezza più alto dell'accelerazione gravitazionale della Terra. 26 ordini di grandezza più alto. Quindi vi chiederete che cosa tiene insieme i nuclei? Se c'è questa forza tremenda nei protoni. Bene, quello che li tiene insieme sono le forze nucleari che non comprendiamo completamente, ma grazie a Dio le forze nucleari non sono parte dell'8 a 2 che al momento metto da parte. Quindi cosa tiene insieme il mondo? Bene, sulla scala nucleare, 10 alla meno 12 centimetri, è molto importante per le forze nucleari. Nella scala atomica, fino a migliaia di chilometri, in realtà sono le forze elettriche che tengono insieme il nostro mondo. Sono le forze elettriche che tengono insieme il nostro mondo. L'elettromagnetismo è reale, si può misurare, testare e ripetere, mentre la gravità rimane semplicemente una teoria. Grazie di aver guardato.